Salve a tutti, siamo alle lezioni 32 e parleremo di Blues e Rock, strutture e scale. Il Blues è nato come canto di lavoro tra gli schiavi d'America nella seconda metà del XIX secolo. Questo canto, inizialmente monodico, diede origine ad altre forme musicali. Le fondamentali sono il Jazz e il Gospel. Più tardi nacque le ballabili, boogie-woogie, rock'n'roll, rhythm and blues e così di seguito fino al pop-rock. Il Blues ha il suo repertorio e i suoi standards. Questo termine è usato per indicare i brani più celebri. Spesso però i musicisti amano improvvisare, sia da soli che in gruppo. In quest'ultimo caso si usa a decidere la tonalità, o meglio, la modalità, l'ostacco del tempo, cioè la velocità. Il resto è affidato alla conoscenza dello stile da parte dei musicisti. Il giro standard, su quale si improvvisa e che poi viene ripetuto a piacere, è basato su 12 misure e gli accordi usati sono, nella struttura più comune, primo, quarto e quinto grado, tutti con la settima minore. Praticamente una successione di accordi di settima di dominante. Questo uso reiterato degli accordi di settima dà l'impressione di un'evoluzione continua. La sospensione della risoluzione è ciò che caratterizza questo genere musicale. Nel prossimo esempio vedremo come è strutturato il giro in 12 misure. Usiamo come tonica il C, cioè il Do. Il tempo sarà quattro quarti, quindi quattro misure in Do. 1, 2, 3, 4, 2 in Fa, 1, 2, 2 in Do, 1, 2, adesso Sol, Fa, Do, Sol e poi si ricomincia. Se suoneremo da soli dovremo fare l'accompagnamento, la melodia e il ritmo. Se invece suoneremo in gruppo le parti si potranno suddividere tra la sezione ritmica, batteria e contrabbasso, e i solisti, generalmente tromba, sax, eccetera. Mentre il pianoforte si incaricherà di armonizzare e di completare il tutto. Se suoniamo da soli, inoltre, la nostra mano sinistra dovrà sintetizzare le parti di batteria e di contrabbasso. Ci sono varie formule adatte allo scopo. Sceglieremo quella più adatta alla nostra mano. Da tenere presente che le crome scritte dovranno essere suonate nello stile swing, la prima lunga e la seconda breve, come spiegato nel capitolo 3, lezione 3. I prossimi esercizi si dovranno sviluppare per le 12 misure previste dal giro, come l'esempio precedente. Esercizio numero 139, tempo 4 quarti, le note scritte sono crome. Quindi, uno, due, tre, quattro, e poi si ricomincia. Altro esercizio numero 140, sempre crome, tonalità Re maggiore. Un giro molto più facile, scritto in semi mini, tonalità La maggiore. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici, dodici, e si ricomincia. Suonando mano sinistra e destra insieme, in modo da accompagnare, si può usare una cosa del genere. Oppure, una cosa più semplice, Giimprovisazione. Giimprovisazione. sul giro blues si fonda su una scala esafonica. Nell'esempio che segue la tonica è C, cioè Do, e le note con i bemolli sono chiamate Blue Notes. E poi ancora Do. Le Blue Notes, cioè note tristi, sono estranee all'armonia della scala maggiore. Esse sono usate sia come note reali che come note di passaggio, appoggiature e acciacature. La loro alterazione con gli ulti che ne conseguono dona alla melodia un colore particolare e rende lo stile assolutamente unico e riconoscibile. Ad esempio un accordo maggiore con la melodia La terza minore. Questa scala però rimane il fondamento. In pratica si usano tutte le note della scala maggiore e in aggiunta le Blue Notes, cioè la scala maggiore con in più le Blue Notes. Naturalmente se il blues che suoneremo sarà in modo minore, scliuderemo la mediante maggiore. La prima domanda che ci si pone a questo punto è se si debba cambiare scala quando si cambia l'accordo. Si può ma non è indispensabile perché in questa scala abbiamo già dieci suoni. Mancano solo il primo diesis e il quinto diesis per avere l'intera scala cromatica. Questi due suoni comunque si possono usare come note di passaggio quindi la gamma a disposizione completa. Ora parliamo di come costruire l'assolo. Un pianista che suoni una serie di note ascendenti e discendenti in continuazione, senza nessuna costruzione né punti di riferimento, annoierà ben presto gli ascoltatori. L'assolo che costituisce il cardine dell'esecuzione deve essere realizzato in modo da destare l'attenzione fin dall'inizio, proseguire creando punti di interesse particolari, ad esempio nei cambi d'accordo, per trovare il climax nel finale del giro. L'uso del break può essere utile all'inizio. Il break è un'introduzione dell'accompagnamento dopo il primo tempo della misura. In quel punto una semifrase della mano destra ripetuta per le prime quattro misure destra subito l'interesse. Il ritmo con la mano sinistra riprende la quinta misura quando passa al quarto grado e si entra nel vivo dell'assolo. I cambi d'accordo saranno sottolineati da un disegno particolare o da un cambio di posizione. L'esempio che segue è un assolo che inizia dopo un giro di dodici misure ritmato da entrambe le mani. L'assolo inizia la dodicesima misura sul G. Seguono quattro break in Do, due ascendenti e due discendenti. Alfa, il ritmo della mano sinistra, riprende mentre la destra scuola più fluida, si inseriscono note accentate in sincope e si continui intensificando in quantità e dinamica. Ora eseguirò l'intero giro dell'accompagnamento e alla dodicesima misura inizierò da solo. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. E poi si riparte. Quando inizieremo a improvvisare una solo, imposteremo la velocità del metronomo a circa 92 al quarto. A questa velocità l'esecuzione sarà efficace con le note puntate. Quando saremo in grado di staccare un tempo più veloce, del tipo rock n roll, con metronomo compreso tra 160 e 200 al quarto, la solo si farà più rarefatto e incisivo, con meno note e molto ritmato. Le crome si potranno eseguire senza ineguaglianza. A quanti volessero approfondire questo stile, consigliamo di ascoltare molte esecuzioni e di allargare il loro interesse al jazz. Fra i grandi nomi troviamo Scott Joplin, Fats Waller, Art Tatum, Bud Powell, Thelonious Monk, Errol Garner e Keith Jarrett. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.